ciao allora oggi altro video di dove acquisto secondo voi ovviamente da wish e ho comprato alcuni bracciali che sono fantastici a mio avviso oltretutto come sempre quello che mi piace io metto nella lista desideri attendo qualche giorno con le promozioni e vado ad acquistarle sempre solo a un euro perché o sono in promozione oppure sono gratis e pago l'aspirazione che è di un euro quindi tutto quello che vedete sempre a un euro signori della wish facciamo una collaborazione perché ormai io compro solo da voi comunque sia vi mostro i bracciali adesso sono pochini perché ne ho presi pochi mi piacevano quelli lì ve li mostro con lo schermo ribaltato così si vedono meglio e poi come avevo anticipato sono pochine comunque è questo il più classico è regolabile e questo è davvero classico cioè è bellino sì col particolare di questi due fermini è classico e anche devo dire abbastanza delicato se tornassi indietro questo non so se lo ricomprerei sinceramente altro invece del genere che mi è piaciuto un sacco è questo che si è già tutto rotolato ovviamente eccolo qua allora eccolo qui con le due palline si sblocca così è abbastanza delicato ma comunque sia è piatto quindi non dovrebbe rovinarsi più di tanto le palline non non fanno rumore sono solo da pendaglio mi sembra carino e poi è carinissimo o anche se vi ricordate un anello simile quindi magari facciamo un po' un danne è anche carino facile da indossare perché c'è il gancetto ho tenuto le luci accese perché credo che così si veda che sbriluccicano un po di più perché se le spengo vediamo meglio i colori ma non vediamo più il briluccichio e quindi anche questo qui mi è sembrato davvero molto carino poi andiamo avanti dove li ho messi eccolo qua ovviamente si sono già rotolati tutti questo se riesco a sbrogliarlo è molto fine aspettate sarà un problema riporlo perché se già si è ridotto in questo caso ecco ha il suo moschettone che è delicato eccolo qui ha due fili che però vanno uniti con tutte le stelline vediamo se ecco così le mette a fuoco con tutte le perline e le stelline mi è sembrato carino mi piaceva perché era carino con le stelline con le palline è molto fine questo aspettate vediamo credo che sarà difficile anche da indossare comunque sia noi ci proviamo intanto a sganciarlo da qui e poi dopo mi piaceva è molto fine molto delicato molto elegante anche questo poi veniamo all'ultimo e questo io appena l'ho visto mi sono innamorata perché è acciaio questo qua ed è non è non è niente di che comunque sia al suo moschettone e la particolarità che mi è piaciuto è questa perché è questa parte rigida con l'infinito la scritta love e lo charme con la zampetta quindi così e questo mi è piaciuto tantissimo che è il meno raffinato volendo di tutti quanti però è quello che io sono impazzita appena l'ho visto ovviamente e questo è carinissimo sembra anche abbastanza resistente speriamo perché comunque sia non ha un gancetto qui è proprio la catena che gira intorno al simbolo dell'infinito ed era carino e questo credo che sia sì questo è l'ultimo allora eccoci qui dunque abbiamo visti tutti avete visto che sono davvero pochi in questo caso non ne ho presi tanti perché non ce n'erano tanti che mi piacessero e poi perché i bracciali io ho sempre i classici quindi qualcosa di diverso ogni tanto tranne questo che mi sono innamorata appena l'ho visto per il resto ed è non è che li porto tutti i giorni quindi ho scelto poche cose comunque sia se vi ho tenuto un po di compagnia con questo video se c'è qualche bracciale che vi è piaciuto o comunque sia che vi è incuriosito sapete che è un euro quindi vanno benissimo e se vi è piaciuto video mi raccomando di mettere un like e di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video alla prossima ciao